Finale con il botto per la stagione teatrale della fabbrica di Villa Dossola che ieri si è conclusa con la divertente commedia Non mi hai più detto ti amo con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, reduci dal grande successo raccolto al Teatro Manzoni di Milano. Platea al completo e altissimo il gradimento del pubblico, quasi un plebiscito, lo spettacolo è piaciuto al 99% dei presenti. La storia era quella di una cenerentola moderna, completamente al servizio di marito e figli che decide di recuperare se stessa e rimettere in gioco tutti gli equilibri, non senza qualche colpo di scena. Molto belle anche le scenografie. Peraltro al termine dello spettacolo i due protagonisti si sono a lungo trattenuti con il pubblico per autografie e fotografie. Tempo dunque di bilanci per il Teatro Ossolano. L'intera stagione ha fatto sì che il teatro in tutte le occasioni sia stato pieno. Dico la verità, forse a parte uno spettacolo, negli altri abbiamo registrato tutto esaurito. Ci sono stati spettacoli che hanno ottenuto un gradimento altissimo, ricordo ad esempio quello della Finocchiaro, quello di Abber, di Dapporto, ma anche il primo di Ambran Gioini, addirittura con la presenza di Massimiliano Allegri qui al teatro. Ci siamo togli delle belle soddisfazioni quest'anno. In generale gli spettatori del teatro e della fabbrica vogliono divertirsi, però devo dire che lo hanno dimostrato anche i risultati, apprezzano molto anche quando gli si propone uno spettacolo impegnativo. Quest'anno è più il padre, era un spettacolo drammatico con Abber, è stato un spettacolo che è stato graditissimo. Gli spettacoli alla fabbrica proseguono con un fuori abbonamento. Il 27 aprile recita al del comico Andrea Pucci, c'è ancora qualche biglietto disponibile. Presso il teatro Villa Dossolese prosegue anche fino al primo maggio la fabbrica di carta, quest'anno dedicata al giallo con presentazioni di libri, mostri ed eventi. Grazie.